Ok, ci siamo. Allora, siamo online, quindi aspettiamo che arrivino un po' di persone, dopodiché iniziamo la presentazione, aspettiamo che arrivino almeno 5-6 persone, così, giusto per. E niente, nel frattempo, nel frattempo non lo so, se vuoi iniziare a condividere lo schermo magari, o iniziamo dopo. E' uguale, dimmi te. No, vabbè, iniziamo dopo, dai, che aspettiamo che arrivino un po' di gente. Ma quindi la diretta si accede attraverso Facebook o YouTube? Si accede attraverso Facebook con il link che c'è e ovviamente poi si va avanti. E rimanda a YouTube? Sì, no, in realtà registra, in teoria dovrebbe registrare. Però, devo chiedere a Marco, non mi ricordo questa cosa. Aspettiamo un 5 minuti, poi iniziamo. Vai. Allora, abbiamo iniziato questo format da settembre, quindi praticamente con l'anno scolastico nuovo abbiamo deciso di dividere quello che era serata grandi fotografi, l'abbiamo divisa in Nessuno parla e Nessuno insegna o Nessuno dorme. Nessuno parla dedicato all'autopromozione degli autori e Nessuno dorme dedicato alle serate con il docente che ovviamente spiega il lavoro. Allora, siamo già in tre, quindi niente, tu sei il secondo autore che ospitiamo ad autopromuoversi. La prima è stata Arianna Todisco a settembre e niente, quindi spero che questo format sia utile più che altro, perché a noi come associazione, cioè noi fondamentalmente non ci guadagniamo nulla, lo facciamo proprio per dare visibilità agli autori e dargli la possibilità di parlare dei propri lavori, di autopromuoversi, se no appunto, come ci dicevamo prima, sono un po' sempre quelli i nomi, quindi per permettere un po' di riciclo diamo questa possibilità. La frequenza poi è uno al mese l'idea di farne? Sì, l'idea è sempre uno al mese, uno al mese sia per Nessuno parla sia per Nessuno dorme, quindi continuiamo con il format delle lezioni online, quindi con il docente che tratta un argomento e fondamentalmente spesso è un autore, può essere anche una tematica piuttosto che un aspetto della fotografia e l'idea è quella sempre di fare quindi due incontri al mese, però continuativamente da qui per sempre, cioè per di mantenerlo nel tempo, perché comunque è bello dare la possibilità alle persone di parlare dei propri lavori e magari live, poi chiaramente l'intento sarebbe anche quello di ricominciare a farli di persona al Museo di Fotografia di Brescia, che noi siamo in partnership con loro, però post-Covid ovviamente non si è più fatto nulla e quindi al momento ci siamo spostati online e va bene così, insomma, dai, attendiamo tempi migliori. Speri, vabbè, peggiore è difficile per cui. Dici? Anche se, vabbè, è sempre possibile peggiorare. Direi di sì. Comunque, ma io direi di iniziare, anche se siamo pochi, poi comunque la diretta la si può rivedere. Allora, io vi ringrazio tutti di essere qua, speriamo che piano piano ci riempiamo e benvenuti al secondo incontro di Nessuno Parla, di Nessuno Press. È un format, come dicevamo adesso con Mattia, che è studiato per dare la possibilità agli autori di autopromuoversi. Abbiamo iniziato il mese scorso con Arianna Todisco, che ha presentato il suo lavoro. Oggi siamo qua con Mattia, che presenterà il suo libro in uscita. C'è anche la possibilità di sostenerlo andando a preordinare la copia del libro, quindi lo ricordiamo. Poi magari mettiamo anche il link in chat per chi vuole preordinare il libro. È un lavoro super bello, anche perché io e Mattia siamo qua che parliamo da mezz'ora, quindi gli ho fatto già praticamente tutte le domande, so già tutto. Sono contenta di ospitarti, Mattia, e di darti l'opportunità di parlare di questa cosa. Anche perché, come mi raccontava prima, non è un lavoro di inchiesta, è un lavoro proprio di storytelling. Quindi è andato a recuperare delle informazioni che in realtà ci sono e sono visibili a tutti. E proprio per questo forse è ancora più difficile renderle in maniera così efficace, così interessante. Quindi, cioè, veramente bravo, anche perché ho visto il tuo sito ed è veramente, veramente fatto bene. Io sono super critica su queste cose di solito. Niente, allora, Mattia inizierà a presentarsi, a presentare il lavoro, dopodiché condivideremo lo schermo, quindi vedrete le immagini, le foto, mentre lui vi spiegherà come ha iniziato a pensare al progetto, la modalità di realizzazione, anche le difficoltà che ha incontrato nel realizzare un reportage di questo tipo, che comunque è un progetto impegnativo perché ha iniziato due anni fa. Quindi è un progetto a lungo termine di questo tipo. Dopodiché, se avete delle domande, le potete scrivere direttamente in chat e le leggeremo alla fine, così magari ci ritagliamo anche un po' di tempo per una discussione, piuttosto che per la lettura delle domande e le risposte. E basta, io ho detto tutto, sparisco e ti lascio il palcoscenico. Perfetto, grazie mille. Allora, provo a districarmi subito con la condivisione dello schermo, così che è la parte che più mi preoccupa, visto che non sono proprio un asso con le tecnologie. Ok, mi sembra che ci siamo, perfetto. Beh, buonasera a tutti e grazie per essere qui ad ascoltare quello che potrebbe essere un monologo, però è abbastanza interattivo, poi ci saranno anche, ovviamente, spazio per le domande e curiosità eventualmente. Il lavoro che presento, diciamo, lo presento anche nell'occasione appunto di questa, dell'uscita del libro, perché appunto verrà concretizzato a breve, proprio in un libro, ma lascerei questa parte più commerciale, editoriale, verso la fine. Il reportaggio a lungo termine, come si diceva bene prima, l'ho iniziato nel 2019, per cui ha quasi tre anni fa, e si chiama La terra dei buchi. Quindi è un lavoro che cerca di, nasce un po' dall'esigenza di scardinare quel binomio che lega troppo spesso, molte volte, le tematiche ambientali, delle rilegate all'inquinamento, o anche agli effetti del cambiamento climatico, con i paesi in via di sviluppo, con le aree più povere e socialmente fragili del pianeta, o anche in Europa e in Italia. In realtà queste tematiche sono assolutamente urgenti e fondamentale parlarne anche nelle zone che in realtà si vantano di essere più o più ricche, economicamente più stabili. Io non sono di Brescia, ma vivo in Lombardia, in provincia di Como, e ho notato, come immagino molti lombardi e in generale chi vive nel nord Italia, che non viviamo in un ambiente salubre e nel quale appunto le dinamiche produttive rispettano la salute dei cittadini e l'ambiente. Per cui mi sono un po' interrogato appunto su questa mancanza di copertura mediatica rispetto a quella che è la situazione dell'inquinamento e da quell'esigenza di trovare un modo di parlare di questo argomento. Poi il fatto che mi sia concentrato sulla provincia di Brescia, in realtà è frutto un po' di un'indagine, di un lavoro di informazione che ho fatto a livello personale, nel senso che un episodio particolare che mi ha spinto a lavorare su questo tema, il fatto che vivo a pochi chilometri da una discarica che negli ultimi anni è stata oggetto di incendi più volte, e quindi mi sono interrogato proprio sulla questione dei rifiuti, sul business dei rifiuti, come i rifiuti tossici vengono stoccati in Italia, come funziona un po' a livello proprio legale, questo meccanismo, e anche appunto poi sugli effetti eventualmente che ha questo business sulla salute della popolazione locale. Cercando però materiale informativo, quindi articoli, leggendo report, eccetera, ho visto che il nome di Brescia saltava fuori molto spesso, troppo spesso, per cui nelle varie classifiche, anche rispetto a diversi tipi di inquinamento, Brescia era sempre nella top ten, nella top five, o addirittura in testa alle classifiche, per cui ho capito che effettivamente nella provincia di Brescia c'era una situazione ancora più peculiare, ancora più rappresentativa forse di queste criticità ambientali, e quindi ho deciso di circoscrivere il mio lavoro lì. Allora, non so perché qua si era impicciolita, ok, perfetto. Quindi per questo motivo mi sono spostato sulla provincia di Brescia, nonostante appunto io non viva lì. Il nome del progetto La Terra dei Buchi deriva, è un'espressione che ho sentito dire ad alcuni ambientalisti locali, e mi è apparsa fin da subito molto interessante perché si crea una relazione abbastanza chiara e ovvia con quella che è La Terra dei Fuochi, ben più famosa, che effettivamente è stata raccontata dai media nazionali molto più spesso rispetto alla situazione del Nord Italia, ma che in realtà, appunto, sì, è sicuramente una situazione gravissima, quella del Casertano, ma fa sì che tutta, appunto, l'attenzione mediatica sia spostata verso il Sud Italia in generale e quei territori che sono anche molto spesso, appunto, oggetto di infiltrazioni mafiose, eccetera. La Terra dei Buchi del Bresciano però, oltre a conoscere delle dinamiche molto simile, a livello statistico-numerico ha dei numeri assolutamente paragonabili, se non addirittura maggiori rispetto a quelli che, ad esempio, come quantità di rifiuti si trovano nel Sud Italia, per cui le varie stime che sono state fatte parlano di uno quantitativo ben maggiore rispetto a quelli che si trovano nella Terra dei Fuochi. Le infiltrazioni mafiose ci sono, infatti molti rapporti di antimafia parlano molto spesso, appunto, della Lombardia, in particolare, ma anche del Piemonte, del Veneto, per cui sono territori che non sono assolutamente esenti dall'essere coinvolti in questo tipo di business illegale. E a parte a quello, rispetto a quello che sono, appunto, le dinamiche dei rifiuti, ci sono tantissime altre tipologie di criticità che nel Bresciano si concentrano con degli effetti particolarmente brutali. I buchi, che sono appunto citati nel titolo e in questa espressione coniata da alcuni attivisti, si riferiscono a quelle che sono le cave di ghiaia, sabbio e marmo, di cui vediamo qui alcune riprese aeree. E la provincia di Brescia, infatti, è ricca di materiale estrattivo, che sono appunto la sabbia e la ghiaia di altissima qualità, e anche il marmo, soprattutto nella zona di Botticino. Avendo questa ricchezza a livello proprio geologico, il territorio di Brescia è stato devastato da un punto di vista, appunto, estrattivo. Cosa è successo? L'idea, poi, che ha dato un po' origine al famoso business dei rifiuti è stata quella di riempire le cave, una volta esaurite, questi bucchi del terreno, enormi, ampissimi e spaziosi, sono appunto divenuti ottimi per, ottimi ovviamente, tra virgolette, per ospitare quelli che sono i rifiuti prodotti dall'industria, dalla popolazione, quindi ogni tipo di rifiuto. Questo ha fatto sì che la provincia di Brescia diventasse un po' un punto di riferimento per lo smistamento dei rifiuti. C'è anche stato un fenomeno, cioè il fenomeno si è esteso così tanto, intanto c'è qualcune foto aerei che possono testimoniare questo consumo di suolo, questo fenomeno ha fatto sì che i rifiuti venissero addirittura importati dal resto d'Italia, come tuttora avviene, ma anche dal resto d'Europa e in alcuni casi dal resto del mondo, nel senso che, ad esempio, la ex-Selca in Val Camonica sono stati ritrovati dei rifiuti provenienti addirittura dall'Australia, per cui parliamo proprio dall'altra parte del mondo. Questo un po' per rendere un po' l'idea di quanto questo territorio sia diventato nel corso dei decenni uno snodo fondamentale a livello proprio internazionale. Questa è solo una, però, delle criticità importanti. Ovviamente il business dei rifiuti si svolge sia a livello legale che illegale, nel senso che non c'è solo quella che è la componente illegale, quindi di stampo camorristico o mafioso in generale, ma c'è anche una componente appunto, le leggi che sono state approvate nel corso degli anni, poi delle leggi che hanno regolamentato questo tipo di economia, ma ovviamente questo ha fatto sì che, certo, alcune situazioni fossero, venissero poi negli anni un po' limitate, ma la presenza di quantitativi di rifiuti e la concentrazione di discariche che in certi punti del Bresciano è probabilmente un caso unico in Europa, ovviamente ha delle repercussioni sul territorio, che nonostante siano regolamentate queste discariche, ovviamente hanno comunque delle repercussioni sul territorio, sulla salute importantissime. Ovviamente c'è anche la mala gestione, nel senso che in Italia sappiamo benissimo che le grandi opere molto spesso sulla carta dovrebbero essere fatte in un modo e poi invece la teoria e la pratica hanno dei grandi gap, presentano delle grandi differenze, per cui poi anche la mala gestione di una situazione che dovrebbe essere in realtà controllata porta appunto ad avere delle conseguenze drammatiche. Le altre criticità di cui parlavo sono effettivamente di natura a volte simile, a volte totalmente diversa. Parliamo di uno sviluppo industriale che ha più di 100 anni, e ad esempio riporto il caso della Caffero, che è stata fotografata in questa immagine. La Caffero è un'azienda chimica che ha radice nella città di Brescia da più di 100 anni e nel corso dei decenni ha rilasciato quantitativi di inquinanti mostruosi, nelle falde acquifero soprattutto, parliamo oltre a cromo, mercurio e altri tipi di metalli pesanti, anche quello che è la contaminazione da PCB, che sono delle sostanze paragonabili alle diossine, che hanno un effetto cancerogeno sulla popolazione, sulla salute umana, e questo tipo di diffusione è avvenuta specialmente nelle falde attraverso il sistema idrico, ha fatto sì che ci fosse una diffusione veramente capillare nella città di Brescia, ma anche nei dintorni, ed è stato, ed è uno, tutt'oggi è uno dei disastri ambientali più devastanti mai registrati nella storia italiana. Nonostante l'importanza di queste, di questi disastri, di questi illeciti, purtroppo i medi appunto hanno ignorato abbastanza, hanno ignorato molto spesso questi casi. Mi viene da pensare ad esempio il disastro del Seveso, che è avvenuto geograficamente molto più vicino a dove sono io, è stato più mediatizzato, forse perché è probabilmente concentrato in un unico episodio, ha avuto degli effetti visibili, immediati, tangibili, e quindi ha fatto sì che la narrazione mediatica fosse più facile, e più intuitiva, e più immediata. Questo però non vuol dire che ci siano situazioni meno gravi, anzi, il disastro della Caffaro è probabilmente ben più grave rispetto a quello del Seveso, e alcuni storici che poi sono anche stati coinvolti, parlo in particolare di Marino Rozzanenti, che è stato più coinvolto anche nella realizzazione del libro, definiscono proprio il caso della Caffaro come una sorta di guerra batteriologica silenziosa, che è continuata per quasi cento anni nella provincia di Brescia, perché parliamo delle situazioni assolutamente devastanti. Le criticità non si fermano ovviamente a quella che è la produzione industriale, ma ad esempio abbiamo anche la produzione alimentare e agricola, quindi gli allevamenti e l'agricoltura intensiva hanno un impatto clamorosamente forte su quella che è la salute del territorio. C'è una statistica che il collettivo Essere Animali ha pubblicato qualche anno fa, che ritengo particolarmente esaustiva e scioccante. Nella provincia di Brescia ci sono più maiali che persone, per cui si stima che ci siano all'incirca 1,4 milioni di maiali contro 1,3 milioni di persone, e questo dato rende abbastanza bene l'idea di quanto questo discorso di allevamento intensivo si sia diffuso e concentrato, in particolare nel Bresciano. Ovviamente chi vive in Lombardia in Pianura Padana sa benissimo che si possono trovare allevamenti intensivi in ogni dove ma nella provincia di Brescia con concentrazioni record in Italia per quanto riguarda specialmente la presenza di suini e purtroppo l'impatto è molto forte sia a livello atmosferico per la produzione di PM2.5 e PM10, che deriva proprio dagli allevamenti, per lo sversamento dei liquami che troppo spesso non viene fatto in modo regolare per cui ci sono degli sversamenti totalmente illeciti nelle rogge, nei fiumi, ma anche negli stessi campi agricoli vengono compiuti molte irregolarità e questo ha poi delle conseguenze sulla salute delle persone. Quelle che sono le foto aeree, adesso parlo magari un po' anche della componente fotografica appunto del lavoro, le foto aeree sono state fatte a bordo di un aereo, proprio fisicamente, nel senso che ho avuto la fortuna di incontrare un pilota che avesse a cuore effettivamente anche le tematiche ambientali, per cui è un progetto che ho sviluppato interamente a pellicola con una macchina di medio formato. Io ho cercato e ho avuto la fortuna di poter continuare con una certa coerenza estetica anche per quella che è la componente appunto delle foto aeree, le foto dall'alto. Ci tenevo molto ad avere una visione sopraelevata del territorio, nel senso che dal piano strada si perde tanto di quella che è la devastazione, tanto di quelle che sono le proporzioni di questa aggressione territoriale, ma dall'alto effettivamente si ha una visione totalmente diversa, ben più completa e ben più sconcertante. C'è una foto che ho fatto sopra le cave di Botticino, che trovo subito questa, e io non pensavo neanche che nel nord Italia ci fosse una situazione simile, e questa visione panoramica secondo me rende assolutamente bene l'idea di quanto... Sì, ma quasi a me ha sempre dato l'impressione guardando queste foto di vedere quasi una malattia, un tumore della terra, e di vedere come veramente una malattia che sta dilagnando il territorio quasi fosse un tessuto umano. E solo dall'alto purtroppo si riesce ad avere una visione simile, una visione di insieme, che poi trasmetta poi anche allo spettatore la gravità di quello che sta succedendo. Sempre rimanendo per le foto aeree, volevo commentare questa che mi sembra particolarmente interessante, nel senso che in questa unica foto abbiamo tre diversi, anzi quattro, cambiamenti rispetto a quello che è il paesaggio. Abbiamo quella che è la realtà di pianura e agricola, che è tipica della provincia di Brescia, per cui vediamo tantissimi calpi coltivati. Questa realtà agricola viene devastata in primo luogo con le cave, per cui vediamo quelli che sono questi buchi nel terreno, sono appunto le cave di varia natura, principalmente sabbia e ghiaia. Queste cave vengono riempite con questa massa grigia che sono dei rifiuti tossici nocivi, in quantità talmente grandi da creare delle vere e proprie colline, e qui vediamo l'avanzare della collina, per cui una volta che la discarica raggiunge il suo limite, si pensa giustamente per una questione estetica e anche di sicurezza, di coprire questi rifiuti e mimetizzarli con un manto erboso. Per cui abbiamo la possibilità di vedere proprio come in questo caso ci sia la collina che sta avanzando e piano piano andrà a coprire anche tutta questa parte qua che adesso è esposta alla luce del sole ed è visibile a tutti, che sono appunto i rifiuti, ma poi verranno coperti dalla collina. Purtroppo, di ripeto, le irregolarità nello stoccaggio di questi tipi di rifiuti non sono un caso così raro. Io stesso sono stato testimone di spargimento di polveri provenienti proprio da queste discariche, semplicemente con un po' di vento, per cui chiaramente la situazione non è sempre controllata, o gli incendi anche sono abbastanza frequenti, per cui c'è grande, anche molto spesso, negligenza in quello che è proprio la gestione di questa situazione. Un altro aspetto che a livello fotografico ho deciso di approfondire è proprio quello invece delle persone, per cui ovviamente mi interessava, sì, mappare un po' il territorio per cercare di concretizzare visivamente quelli che erano, quelli che sono, purtroppo, i luoghi inquinati, ma l'altro aspetto fondamentale era proprio quello dei cittadini, cioè cosa vuol dire vivere in questo territorio, cosa vuol dire abitare, e che conseguenze ha questa situazione ambientale sulla salute delle persone. Purtroppo non sono conseguenze a lunghissimo termine, che magari vedranno forse i figli dei nostri figli, sono conseguenze che già la popolazione sta pagando e a carissimo prezzo. Una storia particolarmente impattante è quella di Pierino e Franca. Pierino Antonioli aveva delle vacche e dei campi coltivati. Nel 2001 l'ASL fa delle analisi su quello che è il latte delle sue mucche e trova dei livelli, dei valori di PCB clamorosamente superiori rispetto ai limiti consentiti. Da un giorno all'altro gli vengono sequestrate tutte le mucche, vengono uccise e gli viene sequestrato quelle che erano la carne e gli ortaggi tenuti appunto in frigorifero nella dispensa a casa di Pierino appunto e gli viene impedito poi di coltivare i campi fino ad oggi sostanzialmente. Ora può, da qualche anno mi pare che può coltivare alcuni tipi di ortaggi che pare assorbano in maniera molto minore rispetto ad altri PCB ma parliamo appunto di una vita totalmente stravolta da un giorno all'altro. Altre storie personali molto forti sono quella di Stefania. Stefania è una donna che ho incontrato in un salone di bellezza proprio nella città di Brescia. Ho cercato di ovviamente la situazione sanitaria soprattutto per quanto riguarda la diffusione di tumori e altre patologie legate all'inquinamento ma i tumori sono appunto una di quelle patologie più diffusa e strettamente legata alla situazione ambientale. Ho voluto raccontare la realtà appunto di questo tipo di malattie in un modo che fosse non così immediato e didascalico come forse potrebbe essere stato andando in un ospedale in un reparto oncologico. Ho trovato quindi questa questa situazione abbastanza interessante che era quella appunto dei saloni di bellezza perché ci sono alcuni saloni di bellezza nella città di Brescia e anche nella provincia che offrono un trattamento di bellezza gratuito alle donne che stanno affrontando delle cure oncologiche. Per cui ho conosciuto Stefania in questa occasione ho avuto possibilità di fotografarla e purtroppo a distanza di un anno è scomparsa proprio per l'avanzare della sua malattia e quindi mi sembrava un modo utile per far capire quanto anche le patologie scaturite in modo abbastanza diretto da questa situazione vadano a cambiare la vita delle persone se non addirittura a terminarla. Mattia, posso interromperti un secondo? Perché la cosa che hai appena detto su Stefania mi ha... Posso farti una domanda? Dimmi tutto. Ma, cioè, ad esempio, quando realizzo un progetto di questo tipo e ci sono di mezzo le vite delle persone ci sono di mezzo comunque dei rapporti umani anche con i soggetti che tu che tu ritrai come cioè come come gestisci diciamo lato lato emotivo questo carico di di responsabilità nella narrazione sia dal punto di vista della narrazione sia dal punto di vista proprio di quello che è successo a Stefania? Beh, chi era Lodi ieri mattina mi ha visto piangere durante la visita guidata per cui direi che non la gestisco benissimo in pubblico forse attraverso uno schermo un pochino meglio è molto tosto nel senso che non è facile ovviamente anche nel suo caso specifico ad esempio c'è stato un peggioramento abbastanza improvviso della malattia per cui assolutamente non me l'aspettavo che avesse questo esito quando sono andato a fotografarla un anno prima rispetto a quando poi è scomparsa e la malattia sembrava molto più sotto controllo per cui è stata una bella botta quando ho ricevuto la notizia e l'aspetto umano per me è fondamentale nel senso che le storie che cerco di coprire come fotogiornalista e come fotografo in generale hanno sempre la tematica di quella che è lo stato di un certo tipo di popolazione in questo caso non è una popolazione che soffre da un punto di vista economico perché parliamo di una delle province più ricche d'Italia però soffre per la salute per cui è un aspetto la componente umana per me è fondamentale è un po' la spinta rispetto a quello che è la realizzazione o meno di un lavoro fotografico e giornalistico per cui è molto difficile non è difficile approcciarmi con le persone non ho mai trovato grande difficoltà soprattutto nel momento in cui si parla delle vittime perché trovo una relazione emotiva abbastanza immediata non faccio fatica da questo punto di vista è però ovviamente difficile poi gestire tutti quelli che sono in retroscena o gli sviluppi di alcune storie personali per cui quando c'è il lieto fine ovviamente è più semplice quando il lieto fine invece manca è parecchio difficile ripeto questa quello dell'impatto emotivo è però al tempo stesso la carica che ho nel momento in cui decido di affrontare un lavoro per cui sono dei problemi con cui so che potrei interfacciarmi anche molto meno rispetto a chi lavora magari in zone di guerra zone di conflitto sicuramente sono delle situazioni anche a livello umano che possono presentarsi molto più spesso nel mio caso in questo caso in questa situazione sono delle situazioni un po' più sporadiche però ovviamente chi fa questo lavoro sa che c'è la possibilità e c'è il pericolo di essere a contatto con delle storie particolarmente tristi assolutamente sì posso chiederti se quello che ti ha spinto a iniziare il progetto sia stato diciamo la parte più informativa la parte diciamo più di dati o la parte che riguarda di più la persona cioè che cosa in cosa ti sei imbattuto per prima per il primo che ti ha dato la spinta per realizzare il lavoro forse un po' entrambe le cose nel senso che ho un'attenzione verso questa tematica sia per ragioni personali che per ragioni poi anche statistiche mi interessa mi incuriosisce molto mi incuriosiscono molto entrambi i lati di una situazione per cui mi è capitato che iniziassi un lavoro solo per una componente proprio di statistica di dati per cui leggessi magari mi è capitato che leggessi un dato che a me sorprendeva in modo particolare per cui ho detto ok decido di raccontare quella storia perché mi sembra assurdo che succeda questa situazione per cui veramente a volte un reportage può nascere proprio da un numero altre volte invece da situazioni più personali che per varie ragioni si vivono con più o meno intensità in questo caso direi che è una combinazione di entrambe le cose per cui mi sembrava sia a livello umano una storia molto simile molto vicina a quella che è il mio quotidiano e dall'altro dall'altro lato anche la situazione a livello statistico mi sembrava talmente esagerata e talmente inconcepibile che ci fosse una necessità di narrazione appropriata e non vedevo questa cosa per cui una necessità di tamponare un po' questa mancanza di informazione di copertura mediatica assolutamente grazie per avermi risposto ti faccio andare avanti grazie per ogni intervento ovviamente interrompimi senza problemi ok a livello un'altra concludo con un'altra storia che è un po' sullo stesso molto simile a quella di prima ma che ha forse un lieto fine se così possiamo dire quella di Carmine piccolo lui è stato sposato con una donna di Brescia nonostante appunto lui sia non sia di Brescia ma è campano si è trasferito appunto nella provincia di Brescia e ha perso purtroppo sua moglie per leucemia da allora ha deciso di attirare l'attenzione rispetto a queste tematiche rispetto al tema appunto della salute e dell'inquinamento utilizzando quella che era un po' una sua arma che è appunto il suo fisico sostanzialmente perché ha un passato da maratoneta da atleta e quindi ha deciso di indossare delle magliette come quella che c'è in questa foto con dei messaggi che possono cambiare per cui alle volte sono più generici altre volte molto specifici rispetto a quello che è un caso a un singolo caso di cronaca magari avvenuto anche da poco ma sul quale non c'è stata abbastanza attenzione mediatica per cui lui decide di correre attraverso i comuni più inquinati o toccati appunto da uno specifico caso di inquinamento in modo tale da attirare l'attenzione dei cittadini perché questo è un grave problema la mancanza di informazione degli anni ha anche creato una mancanza di sensibilità da parte della popolazione rispetto a queste tematiche per cui vengono molto spesso snobbate o sminuite o facilmente dimenticate le notizie che riguardano questi temi oltre a questo modo che definirei folkloristico ma super efficace di attirare l'attenzione mediatica è anche uno dei fondatori del tavolo Bastaveleni che raccoglie sostanzialmente quelli che sono vediamo ecco la foto di una manifestazione quelli che sono i comitati pubblici più attenti e più attivi nella lotta nel contrasto a queste dinamiche e quindi ecco forse vale la pena adesso fare un escurso su questo aspetto l'attivismo locale potrebbe ovviamente essere molto più diffuso nel senso che parliamo purtroppo di una frangia di popolazione ancora troppo limitata rispetto a quella che è la dimensione del problema ma ho trovato uno degli aspetti positivi più importanti che ho avuto nel lavorare con cui mi sono confrontato nel lavorare questo progetto è stato appunto capire come gli attivisti gli ambientalisti locali stiano cercando di contrapporsi a queste dinamiche c'è una componente che è proprio fisica mi verrebbe da dire quindi quella di partecipare a delle manifestazioni organizzare partecipare alle manifestazioni presidi picchetti e quindi fisicamente farsi vedere in pubblico questo è fondamentale ma poi c'è tutto un lavoro di dietro le quinte che coinvolge un aspetto molto più tecnico scientifico e legale che permette poi di fare un'opposizione anche proprio nelle sedi più appropriate nello sviluppo di un progetto molto spesso capita che i progetti non siano effettivamente inattaccabili perfetti anche da un punto di vista legale ma se non c'è nessuno che fa notare queste falle il progetto va avanti perché gli interessi economici ovviamente hanno tendenzialmente la meglio sulle particolarità tecniche purtroppo molto spesso quindi c'è anche tutto un lavoro di contrasto che arriva da uno studio minuzioso scientifico rispetto a quelle che sono proprio le possibilità legali e tecniche e ingegneristiche mi verrebbe da dire in certi aspetti rispetto appunto quello che è uno sviluppo di interno utilizzatore un ceneritore che dir si voglia ha la presenza di una discarica in un certo comune rispetto che in un altro alla dimensione delle discariche alla possibilità di creare nuove cave e quindi è un impegno che è incredibile incredibilmente intenso e coinvolge non solo l'aspetto appunto quello più che ho in questo caso fotografato che è quello più fisico e visibile che è quello fondamentale ma c'è dietro un lavoro di studio assolutamente utile altrettanto faticoso anzi a volte ben più faticoso perché la socialità spesso è anche un aspetto positivo di questa situazione in realtà ma dover studiare scientificamente questi 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 processi economici è molto faticoso ma è fondamentale per cercare di creare un'opposizione efficace per cui è proprio questo uno degli aspetti che ho trovato più interessanti e più piacevoli e molto di grande ispirazione ovviamente e volevo quasi concludere parlando un pochino dell'aspetto estetico di questo reportage per cui si è sviluppato sostanzialmente su tre livelli quello che è il paesaggio per cui la mappatura dei territori inquinati in questo caso forse questa è una foto abbastanza emblematica di quanto invisibile sia l'inquinamento a volte se non si legge una didascalia questa è la quattro ma lo stessa cosa è successa in dimensioni anche maggiori per quanto riguarda la brebemi sotto il manto stradale sono stati nascosti tantissimi un quantitativo enorme di rifiuti tossici ovviamente in modo illegale e mi sembrava utile concretizzarli visivamente perché molto spesso si ci capita quotidianamente di passare di fianco a dei luoghi che sono estremamente inquinati o fonte di inquinamento che quindi non la subiscono ma addirittura la generano ma non ce ne accorgiamo perché se non abbiamo una didascalia che ci può indicare questa cosa è impossibile accorgersene per cui è stato secondo me utile visualizzare quelli che sono appunto questi luoghi abbiamo anche il caso dell'Alpha Chai che rappresenta uno dei dei siti radioattivi della provincia di Brescia che detiene il record italiano per numero di siti radioattivi e appunto in questo caso mi ha colpito la parte estetica di questa foto di questa di questa immagine perché mi sembra quasi questi colori richiamano quasi un parco giochi più che un'acciaieria per cui c'è quasi questo tentativo di rassicurare la popolazione sia con i colori che poi con la scritta ancora più evidente in un modo per rassicurare la popolazione rispetto a quella che è l'attività della singola azienda e purtroppo però in questo anche specifico caso si sono verificati negli anni delle irregolarità anche abbastanza pesanti e quindi parliamo di luoghi che hanno un impatto un tipo di realtà industriale che ha un impatto sull'ambiente molto forte ma l'aspetto estetico appunto l'arredo urbano quindi di accorgimenti per quanto riguarda appunto le aiguole ben curate gli alberelli i pali della luce colorati molto spesso sfungono un po' da elemento che cerca di distrarre rispetto a quella che poi invece è la natura di questi luoghi oltre appunto al paesaggio che ho poi avuto appunto la fortuna anche di inquadrare dall'alto quindi a bordo di questo aereo ci sono appunto i ritratti delle persone che raccontano le storie ovviamente le raccontano in modo leggermente indiretto nel senso che alcuni ritratti sono un pochino più didascalici per cui si riesce a respirare la storia in modo un pochino più diretto in altri c'è ovviamente bisogno di leggere le relative didascalie ma ogni foto che ritrava delle persone o quasi tutte le foto nascondono delle storie come abbiamo visto quella di Pierino e Franca ad esempio drammatiche che è necessario leggere per renderci conto che appunto sono dei problemi questi che riguardano tutti noi e che effettivamente poi vanno a cambiare in modo drastico le nostre vite si spera sempre di no però purtroppo accade molto spesso e l'altro elemento è quello dei dettagli nel senso che ho cercato di creare di trasmettere più che di creare quella che è un'atmosfera misteriosa e un po' inquietante che io ho trovato in questi anni per cui c'erano tanti elementi appunto di non facilissima lettura che però poi vanno effettivamente a creare una una sensazione di inquietudine poi non so se è una cosa mia personale o o o è anche una una cosa diffusa ma in questi luoghi molto spesso ho notato questa pesantezza a livello proprio di atmosfera e quindi ho cercato di inserire degli elementi che fossero ovviamente legati in modo più o meno indiretto alla tematica dell'inquinamento ma che non fossero di facilissima lettura per cui molto spesso ci sono le didascadie che vanno ad essere fondamentali per capire le foto ma appunto abbiamo degli elementi più dei dettagli che possono essere un pochino più difficili da leggere e da capire ma sono effettivamente delle situazioni che con le quali ci confrontiamo quotidianamente ma che se non abbiamo una certa attenzione non possiamo neanche decifrare e quindi questo è stato un po' l'approccio a livello puramente visivo io direi che non so mi sembra forse sono stato spero di essere stato abbastanza esustivo ci sarebbero tantissime altre storie poi da approfondire nel senso che sia a livello di storia industriale che di illeciti a livello proprio ambientale che di storia personali ce ne sarebbero un'infinità ovviamente nel libro ci saranno ce ne saranno di più rispetto a quelle che ho descritto ora e forse direi adesso manterrei adesso uno spazio per la reclama commerciale nel senso che sul sito di 6x6 che è la casa editrice con cui ho deciso di lavorare con cui abbiamo iniziato questa collaborazione è possibile preacquistare il libro per cui è un libro che in questo momento è soggetto a crowdfunding sostanzialmente per cui stiamo pre vendendo il libro che ancora fisicamente non esiste ma verrà stampato a fine novembre inizio dicembre con l'acquisto in anticipo di una copia del libro si vanno a coprire le spese di produzione per cui è un progetto che nasce totalmente dal basso che rispecchia anche un po' il mio approccio nel senso rispetto a questo tema nel senso che non ho pensato a delle dinamiche editoriali particolari nel momento in cui ho deciso di lavorare a questo progetto l'ho approcciato nel modo più sincero e genuino possibile per cui ho proprio cercato di lavorare come volevo sotto ogni aspetto e il fatto di riuscire a produrre questo libro senza rivolgersi a degli esoterror secondo me è molto importante rispecchia di nuovo rispecchia un po' questa autonomia che secondo me è importante per certi tipi di lavoro come in questo caso per cui il libro è appunto acquistabile fino al 7 di novembre per cui non manca tantissimo tempo sono due settimane scarse e acquistandolo adesso appunto si ha la possibilità di dare la certezza a noi di poter produrre questo libro acquistandolo dopo se si riesce a raggiungere la quota prestabilità ovviamente ci fa piacere ma farlo adesso ha una sua valenza assolutamente quindi questa era un po' la parentesi commerciale non sono un grande venditore ma ci tenevo a farla perché è fondamentale far capire anche questo tipo di dinamiche a chi ovviamente non è un addetto ai lavori io stesso l'ho scoperto approcciandomi per la prima volta alla realizzazione di un libro però appunto se si vuole lavorare in un certo modo queste sono le condizioni e mi sembra che siano condizioni più che accettabili per avere poi un prodotto molto interessante e ben fatto quindi sarà questo libro allora mi sono permessa di inserirvi il link in chat e lo vedete anche qua alla prevendita del libro di Mattia chi ha domande o vuole intervenire se volete adesso c'è spazio io vorrei farti un paio di domande più che altro sulla parte estetica perché vedo vedo che hai mantenuto come hai detto giustamente tu un approccio particolarmente non di larscalico che è una cosa che apprezzo molto che è un fotogiornalismo abbastanza diciamo nuovo è un linguaggio nuovo nel senso che il fotogiornalismo solitamente lo vediamo ai festival lo vediamo sui giornali lo vediamo sui siti dei principali media tende molto spesso a rendere le cose di facile interpretazione e di immediata lettura che però a me dopo un po' annoia come linguaggio nel senso senza nulla togliere ovviamente al fotogiornalismo in sé al linguaggio del fotogiornalismo classico apprezzo tantissimo chi come te prova a esprimersi attraverso un linguaggio nuovo come come hai cioè come hai organizzato l'editing con cioè con chi non 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 mi devi ovviamente dire il nome però c'è stato qualcuno in particolare che ti ha dato una mano a selezionare le immagini ti ha dato una mano per quanto riguarda proprio la post produzione a livello di toni a livello di ombre di contrasti perché è tutto molto studiato e sembra tutto molto non sembra nulla lasciato al caso quindi volevo capire questa parte ok grazie per la domanda che magari per chi mastica di fotografia è sempre interessante anche io sono curioso di sapere altri come lavorano per cui sono lieto di rispondere per quanto riguarda i nomi in realtà ho cercato di fare un po' tutto da solo nel senso per cui non mi sono appoggiato a particolari persone esterne nel senso che è un po' la gioia del lavoro a lungo termine il fatto di poter lasciar sedimentare le immagini per tanto tempo e quindi poi vederle con occhi nuovi una delle frasi che ritengo assolutamente più vere è quella che è il miglior editor è il tempo per cui il fatto di lasciare riposare il lavoro per parecchio tempo effettivamente permette poi di riguardare le immagini con degli occhi totalmente nuovi e per rispondere un po' alla prima parte della tua domanda ho utilizzato un linguaggio che apprezzo che tu dica che sia un pochino e che si discosti un po' dal reportage classico perché io stesso ma si può vedere tranquillamente anche nel sito ho lavorato in modo molto più classico in certi in certi contesti per cui ad esempio questo è un assignment che ho fatto per il paese si vede dopo l'incendio di Moria nell'isola di Lesbo e già c'è un sapore che secondo me è più giornalistico più classico più immediato un po' appunto come richiede l'industria editoriale perché quando una foto va su un quotidiano e quel quotidiano il giorno dopo scade sostanzialmente ha senso che queste immagini abbiano un aspetto anche un po' più di facile lettura appunto mi ero un po' stancato anch'io di lavorare così per cui avevo bisogno di trovare un po' di nuovi stimoli proprio dal punto di vista visivo e quindi il fatto di avere iniziato il lavoro a pellicola quindi questo è tutto un lavoro fatto appunto in pellicola medio formato mi ha anche costretto proprio fisicamente a limitarmi in quella che è la produzione di foto per cui non potevo assolutamente per motivi economici tornare a casa con 300 foto fatte in mezza giornata ma magari ne tornavo a casa con nessuna o con 5 o se proprio c'era la manifestazione con 7 però mi sono molto limitato in quello che è proprio il momento dello scatto e quindi è stato parecchio utile da un punto di vista personale artistico se così vogliamo dire fotografico fosse un po' più adeguato come termine e poi l'editing e la post produzione in realtà è anche quello un lavoro in divenire nel senso che non avendo mai lavorato a pellicola a colori ho fatto anche fatica a trovare la quadra dal punto di vista cromatico per cui ci sono anche delle pubblicazioni dello stesso lavoro che sono magari di un anno fa e già si vedono dei colori un po' diversi piano piano ho trovato un po' quello che cercavo per cui sì l'aspetto dei colori secondo me è molto importante però sì l'ho trovato sperimentando tanto proprio facendomi uscire gli occhi fuori dalle orbite a stando delle ore al computer perché di questo si tratta di tantissime ore al computer e anche poi la selezione sì quella è anche quella è cresciuta col tempo nel senso che poi anche vedendo magari il lavoro è stato pubblicato su diversi magazine per cui vedendo anche poi l'approccio dei vari editor rispetto a quello che erano le foto selezionate mi ha fatto ragionare mi ha fatto ripensare al lavoro mi ha fatto pensare a una disposizione delle foto diverse quello che ho sul sito è un editing abbastanza largo per cui ci sono parecchie foto se non fosse una quarantina sul libro ce ne saranno pensavamo di metterne 50 per cui anche quello è un lavoro che dobbiamo ancora finalizzare ma l'idea era di metterne una cinquantina per cui un libro bello corposo ma non troppo senza rischiare almeno l'obiettivo di essere ripetitivi però è un lavoro che in questo caso ho fatto abbastanza da solo per cui ho cercato di ascoltare non troppo pareri esterni come invece facevo in precedenza perché è un lavoro che si discosta un po' anche proprio nelle modalità rispetto a quelli che ho fatto in passato in cui cercavo più il supporto anche appunto di altri colleghi o altre persone esperte in questo caso ho cercato di fare un po' tutto da me e poi ovviamente è impossibile ignorare il parere di tante persone o appunto il modo in cui viene trattato poi sui media nel momento della pubblicazione in qualche modo influenza l'autore però ho cercato di mantenere una linea abbastanza personale in questo caso ok hai risposto perfettamente alla mia domanda un'altra cosa ti volevo chiedere all'interno del libro oltre alle foto che sono indubbiamente meravigliose a livello proprio estetico oltre che di efficacia nel raccontare nel raccontare le cose i testi cioè trovo dei testi c'è anche una parte diciamo scritta corposa o ti sei concentrato più sulle immagini e i testi sono tuoi o sono in inglese o in italiano ok per quanto riguarda proprio il libro i testi saranno sia in inglese che in italiano per cui ovviamente anche l'idea di appoggiarsi a di collaborare con un editor italiano mi sembra la più sensata in quanto si parla di un lavoro in Italia per cui volevo che fosse edito da una casa editrice nazionale poi loro sono di Siena però non mi sembrava forse l'idea più comoda quella di andare all'estero e i testi però saranno anche tradotti in inglese per cui per avere anche la possibilità appunto di diffondere un po' questo Brescia può essere un caso simbolo a livello di Lombardia a livello di sistema nord italiano ma anche a livello europeo o mondiale se vogliamo così dire nel senso che poi ogni situazione è unica e particolare però ci sono delle caratteristiche comuni quindi l'idea è anche un po' quella poi che si possa diffondere magari il messaggio un po' in generale che appunto anche nel mondo occidentale e in luoghi economicamente ricchi ci sono molto spesso delle situazioni che si tende a ignorare ma che in realtà poi hanno delle conseguenze molto gravi per cui questo era un po' anche all'estero spero che possa essere in qualche modo apprezzato il lavoro sui magazine è stato così per cui spero che anche il libro possa essere fruito non solo proprio da dei lettori italiani e ci saranno assolutamente dei testi non scritti da me ma ho avuto la possibilità di conoscere tante persone assolutamente più competenti sia in ambito di scrittura che in ambito proprio della tematica nel Bresciano per cui ci sarà un testo di Marino Ruzzenenti che è uno storico e docente di Brescia famosissimo nell'ambiente perché è stato veramente uno dei primi a parlare di tantissime tematiche per cui è proprio un'istituzione e sono stato contentissimo che abbia abbracciato l'idea di questo libro Pietro Gorlani che è un giornalista del Corriere della Sera che per tantissimi anni ha raccontato quotidianamente questi problemi queste tematiche per cui è super informato proprio a livello di cronaca e ha un'idea assolutamente precisa di quello che è successo durante gli anni e l'ha vissuto in prima persona e in più ci sarà un testo di Raffaella Giubellini e Rosa Cerotti che sono due donne che fanno parte del comitato di sanità pubblica Basta Veleni e sono stato super orgoglioso del fatto che abbiano accettato di partecipare a questo libro perché il loro sarà invece un punto di vista di cittadini che hanno vissuto e stanno vivendo appunto in questo territorio e hanno deciso invece col tempo poi di cioè non hanno abbandonato il territorio ovviamente ci continuano a vivere ma hanno deciso di abbracciare la causa appunto dell'attivismo per cui cercano di cambiarlo per cui mi è sembrato molto interessante avere anche un punto di vista che fosse eventualmente un pochino meno tecnico e specifico ma più personale terra a terra rispetto a quello che proprio significa abitare un certo luogo e decidere però di cambiarlo nonostante questa decisione sembri all'inizio totalmente folle perché parliamo di una lotta veramente che sembra Davide contro Golia ma hanno abbracciato questo tipo di stile di vita perché poi è totalizzante questa cosa e le stimo tantissimo sono bravissime sono super competenti super informate e in più hanno una visione molto terra terra secondo me della questione che è molto utile trasmettere per cui ci saranno questi tre testi che ognuno a modo suo secondo me vanno poi ad essere abbastanza esaustivi rispetto a quelli che sono le tematiche trattate poi anche nelle fotografie ottimo sei stato super 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 esaustivo grazie speriamo l'ultima domanda che ti faccio come diciamo come ti senti a pubblicare il tuo primo libro e a portare avanti una campagna di crowdfunding ti diverti ti pesa come sta andando allora divertirmi forse quando sarà finita ci riderò sopra ma per ora parecchio adesso no la disperazione no nel senso che la campagna sta andando bene ci restano ancora appunto una settantina di libri all'incirca da vendere e abbiamo due settimane per cui siamo assolutamente in linea e siamo sicurissimi di portare la termine io per come sono fatto non sono proprio il più grande venditore e faccio fatica anche un po' espormi personalmente per cui sono molto del tipo se le foto ti piacciono te piacciono se no non devo stare qua a convincerti è verissimo che però effettivamente questo approccio sul marketing da un punto di vista di marketing non funziona e qua proprio per aver scelto una linea editoriale che è molto indipendente bisogna assolutamente metterci la faccia e spingere un po' anche a livello proprio personale questa questa campagna di pre vendite per cui è un aspetto che sto imparando dico sempre penso sempre fra me che è un percorso anche da un punto di vista professionale molto interessante perché sto facendo delle cose che non avrei mai fatto al contrario per cui però devo dire che ne vale la pena per cui lo sto facendo perché penso che questo sia un lavoro assolutamente utile anche il fatto di concretizzarlo in un libro non è stata un'idea così rapida e casuale ma ci ho pensato un po' però effettivamente proprio per contrastare un po' l'evanescenza di queste notizie il fatto di produrre un oggetto che poi rimane lì e non e non invecchia dopo una settimana o addirittura in un secondo chiudendo la pagina internet che si sta leggendo effettivamente è un modo molto interessante per far passare il messaggio e per diffonderlo in più appunto poi c'è la possibilità di presentare questo libro quindi si creano delle situazioni di dibattito che altrimenti non ci sarebbero per cui ho fatto un po' di calcoli rispetto a quella che è la produzione di un oggetto che potrebbe tranquillamente non esistere e quindi anche in termini di sostenibilità c'è comunque una macchia nonostante sarà poi fatto in carta 100% reciclata per cui apprezzo molto l'attenzione che gli editori hanno messo anche nell'aspetto proprio produttivo però ci ho pensato un po' e la conclusione è stata appunto che sì vale la pena di farlo e quindi vale anche la pena di acquistarlo assolutamente e quindi ha molto senso proprio in un'ottica di diffondere questo di creare un'informazione che sia che punta ad essere di qualità fatta con calma fatta con attenzione e che appunto si spera possa non svanire in pochissimo tempo per cui l'idea è stata un po' questa e ci siamo convinti mi sono convinto di questa idea per cui adesso c'è anche da vendere sostanzialmente sono d'accordo saremo i primi a sostenerti assolutamente c'è lo scopo del format c'è lo scopo dello sviluppo e del lancio di questo format è volto proprio a dare la possibilità a chi come te porta avanti dei progetti per creare valore come può essere il libro la terra dei buchi e permettergli appunto di avere visibilità e convincere ma non proprio convincere sensibilizzare le persone sia a comprare i libri degli autori quando sono ancora vivi e non quando sono morti così magari ci vivono sia dal punto di vista appunto delle tematiche trattate che in questo caso direi che ce ne sono ce ne sono di cose all'interno del tuo libro su cui varrebbe la pena farci un pensiero ecco non sono non sono proprio cose leggere che ci fanno stare proprio tranquilli quindi chi vuole acquistare il libro vada sul sito di 6x6 prodotti la terra dei buchi di Mattia e il link è in chat e lo vedete vabbè qui sul banner in sovrimpressione possiamo andare direi in chiusura a meno che non ci sia qualcuno che ha altre domande o voglia intervenire in altro modo se venissero poi in mente delle domande anche nel corso dei giorni nel caso mi si può anche contattare tranquillamente su instagram per mail per cui ogni dubbio assolutamente mi fa piacere dibattere di questo argomento in ogni sede possibile per cui sia al bar davanti alla birretta che in chat per cui se qualcuno fosse interessato a chiedere qualcosa ma magari adesso non ha una domanda ben formulata e ben chiara mi può comunque disturbare nel corso dei giorni tanto sono sempre a disposizione ovviamente grazie grazie mille Mattia e io vi ricordo che saremo sempre presenti nei prossimi mesi con questi due format quindi nessuno parla e nessuno dorme sia per diciamo dare la possibilità agli autori di autopromuoversi sia per continuare a fare gli incontri per la formazione con i docenti su autori del passato piuttosto che su tematiche nel mondo della fotografia e per il momento per la serata concludiamo qui vi rinnovo l'invito a dare un'occhiata alla prevendita del libro di Mattia per dargli una una grossa mano nella pubblicazione del libro e ci vediamo al prossimo incontro che sarà il mese successivo vi informeremo su tutto quello che sarà il programma di nessuno press sia tramite social che tramite la newsletter e per chi ha visto la diretta e non è associato a nessuno press vi ricordo che potete richiedere la testera e potete avere quindi accesso ai workshop ai corsi e a tutti a tutte le attività che sono dedicate ai soci quindi tesseratevi momento marketing ce lo siamo levati anche questo va bene grazie mille ancora Mattia per aver accettato l'invito e per il lavoro che hai fatto e a presto grazie mille buona serata buona serata a tutti grazie mille grazie mille